I dati INAIL pubblicati in questi giorni ed elaborati da responsabile dell'ufficio economico CGL Liguria Marco De Silva fotografano un calo degli infortuni sul lavoro in Liguria, ma non quelli mortali che raddoppiano. Un ultimo decesso è accaduto pochi giorni fa a Luni, in provincia della Spezia. Un operaio è morto mentre stava lavorando all'interno di una segheria di marmo dismessa. Secondo i dati INAIL, questi sono gli effetti del lockdown e dello smart working in Liguria. Nei primi nove mesi dell'anno si è registrato un calo delle denunce del 17,4%. Nel settembre 2019 gli infortuni denunciati erano 15.317 contro i 12.650 del 2020. Di questi l'86% si è verificato sul luogo di lavoro, mentre il resto è nel tragitto casa-lavoro-casa, con una contrazione frutto del calo degli spostamenti a causa di smart working e lockdown. Il 92% degli infortuni è avvenuto nell'industria e nei servizi, meno 10% rispetto al 2019. Il 6% nella pubblica amministrazione, meno 62,8% dovuto a smart working nel pubblico impiego. E il 2% nell'agricoltura, meno 29,1%. Gli infortuni mortali raddoppiano passando dai 14 del 2019 ai 31 di quest'anno. Tre decessi sono avvenuti nell'industria, sei nell'artigianato, sette nei servizi, tre nelle altre attività, 11 in settori che l'INAIL definisce non determinati, uno nella pubblica amministrazione. Nonostante il calo degli infortuni sia marcato, i numeri restano alti e questo impone un rispetto rigoroso delle norme, comprese quelle definite, nei protocolli su salute e sicurezza, in ambienti di lavoro, sottoscritti dal sindacato con il Governo, commenta Fabio Marante, segretario regionale CGL Liguria. In riferimento all'età, la media dei decessi avviene tra i 50 e 59 anni di età. Abbiamo chiesto al Governo di aggiornare il protocollo su salute e sicurezza perché sappiamo che tra le categorie maggiormente esposte ci sono senz'altro i lavoratori della sanità pubblica e privata e tutto il comparto dell'assistenza alla persona, conclude Marante. La nostra pressione per far applicare le norme sui luoghi di lavoro è costante, ma è evidente che questi dati impongono una maggiore attenzione e soprattutto risorse in prevenzione e controllo.